vedo già delle difficoltà qua terreno scivoloso stamattina giù di qua vai con l'issio di qua torno al bidone faccio la corra che se prendi vedi che tombone che fai giù giù di qua tutto a sinistra subito a sinistra 10 25 27 ora subito di qua si sta bassi e si esce giù subito grande frank sembra facile stamattina dentro eh bravo uh 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 hai fatto a terra qua viscidume il tronco il tronco ah ma va fatto il tronco andare su di lì dalla radice ah ok in là si in là in là noi qua no ok qua c'è un tronco scimino da lì ok gli esperti passano di là i più per l'altro sono tronco ciao ben arrivato e che cazzo fai l'autostrada cazzo tuoi c'è arrivato oh con i viveri come ci dobbiamo andare si accomodi dai viveri guarda la mia moto dai sì sì no non sono ma sì sì io è è sì Grazie a tutti.